L'operazione di oggi ha consentito di trarre in arresto numerosi soggetti appartenenti al clan cipriano operante nei territori di Bitonto e Palo del Colle. L'indagine svolta dai carabinieri di Bitonto e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari ha permesso di interrompere un'importante attività di spaccio sul comune di Palo del Colle, dove il clan aveva spostato i propri centri di interesse nel tentativo di bypassare, e da qui il nome dell'operazione, i massicci controlli delle forze dell'ordine operanti nel territorio di Bitonto all'indomani dell'omicidio della signora Anna Tarantino, avvenuto nel 2017. L'operazione si pone in continuità con analoghi interventi repressivi condotti dall'arma nei confronti dello stesso clan e che hanno portato, tra l'altro, alla recente condanna di oltre 20 affiliati già arrestati nell'ambito dell'operazione denominata Porta Robustina, eseguita nel 2022.